Ti senti spesso stanco senza motivo? Il tuo sistema immunitario tende ad abbassarsi specialmente durante l'inverno? Potrebbero mancarti alcune vitamine essenziali per il tuo corpo. Vuoi sapere quali? Ottieni il tuo rapporto epigenetico oggi e scopri esattamente di che cosa ha bisogno il tuo corpo. Usando i test epigenetici, eseguiamo una rapida scansione dei capelli, con solo quattro ciocche per determinare esattamente ciò di cui il tuo corpo ha bisogno per funzionare meglio e rimanere più forte e sano. Con questa nuova tecnologia puoi capire quali vitamine, aminoacidi, minerali e antiossidanti ti sono necessari. Ora puoi raggiungere uno stile di vita sano con la tecnologia tedesca all'avanguardia. Vivi la tua vita migliore oggi. Cosa spezzi a fare il tuo test epigenetico Sdrive? Per maggiori informazioni, EpiNutraCell SRL la spezia. Per info, epinutracell at gmail.com. Telefono 393 914 2000 0187 17 80 859.